Ciao a tutti, oggi sono qui per annunciarvi che questa domenica ci sarà una live ringraziamento dei 100 iscritti, una live speciale 100 iscritti, grazie per essere così tanti che abbiamo finalmente raggiunto il traguardo dei 100 iscritti. Un po' in ritardo faccio sto video ma ho appena tempo adesso per farlo e niente faremo una live di libere, classificate, personalizzate, tutto con gli iscritti e niente vi saluto. Più tardi uscirà un video di carriera allenatore Benevento appunto adesso vedete che siamo sul gioco e niente vi saluto e vi ringrazio di nuovo per i 100 iscritti e ci vediamo alla prossima, ciao!